Niente scuse, niente scuse, vediamo se mi viene un po' a giro con Marcello Juno In piedi raga, in piedi, in piedi Ragazzi mi raccomando guardate tutto questo video perché abbiamo fatto un gol pazzesco Un gol che volevo fare da più di un anno E finalmente ci sono riuscito Lasciate anche un bel mi piace perché 5000 sono d'obbligo per questa carriera Io vi lascio al video, buona visione, bella Bella a tutti ragazzi, qui è Giovedere Nessanta e ben ritrovati nel mio canale Oggi siamo qui finalmente tornati con un nuovo episodio con la carriera allenatore con il Monaco Questo video signori sarà fondamentale, uno dei più importanti di tutta la carriera Perché giocheremo ben tre partite ma saranno tre partite contro l'Ipsia, il Bayern Monaco e il Borussia Dortmund Sfideremo queste tre squadre e vedremo un po' come andrà Sono molto fiducioso perché la squadra è forte e quindi voglio fare 3 su 3 E fu così che le perdemmo tutte facendo 0 punti e 0 gol Invece no, me la voglio gufare ma non fa niente, me la voglio giocare al 100% Questa è quella squadra, siamo pronti per affrontare la prima che è il Lipsia Andiamo in campo, non perdiamo altro tempo, abbiamo già parlato troppo Queste qui sono le divise, questa qui è la formazione e noi signori ci vediamo in campo E tutto pronto signori, ci siamo, le squadre sono in campo e inizia adesso l'Ipsia Monaco Caputo diventa buona subito per Marcello Junior, cioè può andare fino in fondo Fascio del portiere non è vero col Mancino, no Oh, Müller, cosa ha preso Müller? Ci sono due Müller in porta Ha fatto un miracolo pazzesco ragazzi, pazzesco su Marcello Junior E poi sul colpo di testa vincente di Mancini il portiere non può nulla Passiamo subito in vantaggio, peccato perché avrei voluto far segnare Marcello Junior Perché sta lottando per la classifica dei capocannonieri e per il record mondiale di gol fatti in Bundesliga Ci rifaremo però, attenzione però Lipsia, parata dell'altro Müller Ancora loro però con Bruma, attenzione alla finta, William Jose, meno male che non ha tirato Oh eccolo qua, mamma mia, pallone sul palo, attenzione però alla ribattuta, via Vediamo se riusciamo anche a ripartire, sono messi male, caputo a larga per Arnaiz Che la incrocia con il sinistro E doppietta, non è vero, secondo gol per il Monaco, uno di Mancini e uno di Arnaiz Molto bene, come cambiano le partite Palo dell'Ipsia, contropiede 2-0 Ancora noi però, sono messi malissimo, mamma mia Arnaiz, appoggia per Marcello che se la mette sul sinistro ci prova da una posizione impossibile E pallone fuori, fine primo tempo, mamma mia, potevamo addirittura fare il terzo contro un Lipsia che sta giocando una partita strepitosa Nei primi minuti ho pensato nella mia testa, non possono reggere questo ritmo per tutta la partita Perché stavano veramente facendo un possesso, un pressing pazzesco Adesso sono crollati però, nessuna squadra può reggere il ritmo del Monaco Caputo, per Marcello, questa è buona, questa è buona, questa è buona Marcello, è arrivato Era questione di tempo signori, 3-0 Gol di Marcello Junior, ellipsia K-O Non voglio subire gol, non voglio subire gol Bravo Müller, easy Bruma, occhio Uh, bello Bello, bello, bello 3-1 Era impossibile evitare questo gol, impossibile Bruma, ancora loro, no, non ci credo Cosa ha sbagliato? Cosa ha preso Müller? Siamo crollati noi, altro che crollano loro qua, siamo crollati noi Calcio d'angolo, attenzione di testa Fuori, non c'è più tempo L'arbitro fischia la fine, con un po' di sofferenza nel finale Mamma mia, voglio vedere il tito in porta perché vuoi vedere che ellipsia ha tirato più di noi? Ho questo presentimento, 8 tiri a 5 Con 9.5 per Mancini L'avevo detto che ellipsia stava giocando una partita straordinaria Con il Bayern Monaco che cade in casa contro il Wolfsburg Siamo arrivati adesso signori alla seconda partita di questo video La prima andata ora tocca al Bayern Monaco in casa Quindi davanti ai nostri tifosi La squadra più o meno ha recuperato e quindi possiamo andare a giocare questa partita Abbiamo 5 punti di distacco dalla seconda Cercheremo di vincere per aumentarlo ancora di più Queste qui sono le scelte e noi signori ci vediamo in campo E tutto pronto ragazzi? Ci siamo! Le squadre sono in campo e inizia adesso Monaco-Bayern Monaco Ho appena visto Perisic in attacco a formare un tridente con Lewandowski e Müller Non male! E Amsic a centro campo Il Bayern Monaco si è rinforzato Attenzione qui, di testa Lewandowski Tutto buono? 1-0 Siamo sotto Sergio Ramos! Ma ragazzi che squadra si è fatto il Bayern? Occhio qui però Ferrari, Ferrari con il sinistro No! E poi tutti le rovesciate a messo giù niente Non c'è fallo, non c'è fallo Ci stiamo ancora però Gemayli, appoggia per Ferrari Bello per Caputo che allarga Con il piatto no! Perché così male? Müller, Lewandowski ancora Non ci credo ragazzi Pallone fuori, era tutto buono Non era neanche fuori gioco Ma Lewandowski vicino alla doppietta di testa con un'azione identica Perdiamo anche palla adesso No ragazzi, troppo deconcentrati Dai, basta Sono ancora loro invece 2-0 Doppietta di Robert Lewandowski K.O. Abbiamo avuto le occasioni per riaprire questa partita ragazzi Le abbiamo avute ma non le abbiamo sfruttate Due tiri Sbagliati da parte nostra Amsic Appoggia per Lewandowski Eh no ragazzi C'è Lewandowski è un fenomeno Porca miseria 3-0 Ha fatto 3 tiri Ha fatto 3 tiri 3 gol Questo Cristiano Guarda lì col mancino Sesto gol in Bundesliga Metà dei gol E ha fatti contro di noi Attenzione Perisic Amsic Pallone fuori Ci stanno prendendo a pallonate Fuori Lewandowski Molto bene Dentro Aguero Ah Benissimo 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 Marcello Junior Appoggia per Caputo Prova a far l'alta Per Gemay Lee Che calcio Di sinistro traversa E oggi Stornata Giornata storta ragazzi Giornata storta oggi Gemay Lee 2 di recupero Il tocco per Arnaiz Siamo stanchi Siamo stanchissimi Kimmich indietro Per il portiere E l'arbitro Fischia la fine Lewandowski Con il tutone Si porta il pallone a casa 3 tiri 3 gol Ci hanno massacrati Non abbiamo avuto la forza Di reagire Anche se qualcosa Abbiamo fatto 3 tiri Una traversa Peccato Il 3-0 È molto pesante Meritavo di perdere Ma secondo me Non così pesantemente Offerta Per allenare la Polonia Che cosa è successo Lewandowski Ha messo una buona mano Su di noi No ovviamente No Al momento Non voglio allenare Nessuna nazionale Andiamo avanti Perché c'è una settimana Di pausa Anzi Soliti 7 giorni Di stop E poi abbiamo La partita Contro il Borussia Dortmund Abbiamo comunque Due punti Di distacco Dallo Schalke 33-31 Rischiamo anche Di perdere 6 giocatori Però Che cosa è successo Stuart Lex Muller Grimaldi Andriano Grimaldi Sing E Ashraf Ovviamente Rinnoviamo il contratto Di Muller Delega rinnovo Va bene così Accettiamo tutto Cruciale 4 anni Mancini si rinnova Grandissimo Giovane Cannon si rinnova Terzino straordinario Ruolo cruciale Purtroppo Invece Grimaldi Ashraf Gasperoni E l'ex Luthor Non hanno accettato Il rinnovo Per il semplice fatto Che abbiamo finito I soldi Abbiamo rinnovato I migliori Al momento Non perdiamo Dei titolari E questo è l'importante Kannon rimane Muller rimane Quindi ci siamo Peccato Per dei giocatori Che comunque Ci hanno trascinati Io non so Che cosa fare Aspetteremo Magari qualche Cessione di gennaio Per rinnovare Almeno L'ex Luthor Grimaldi Che sono stati I simboli Del primo anno Non lo so Vedremo un po' Che cosa Riusciamo a fare Io mi fermo Due secondi Perché devo andare Live su Twitch Vi ricordo che Venerdì Sabato e domenica Giocheremo Ogni giorno La weekend league Su Twitch Quindi mi fermo Un attimo Vado a giocare Le partite E poi ritorno Qui per fare L'ultima Contro il Borussia Dortmund Eccomi qui ragazzi Sono tornato Live su Twitch Finita Grazie a tutti Per esserci stati Anche su Twitch Se non ci siete stati Link in descrizione Così la prossima volta Ci sarete Partita contro il Dortmund Questa qui è la squadra Tutti quanti confermati E andiamo a sfidare Il Borussia Dortmund Vittoria contro l'Ipsia Sconfitta contro il Bayern Cerchiamo di rendere positivo Questo video Vincendo adesso Contro il Dortmund E tutto pronto ragazzi Ci siamo Le squadre sono in campo E inizia adesso Borussia Dortmund Monaco Ed in Dzeko Al Borussia Dortmund Attenzione Vediamo di non farci spaventare però Marcello Junior Appoggia per Ciccio Caputo Fa la finta E sbaglia Poi Marcello Appoggia Bellissimo Un po' di fortuna Un po' di bravura E un po' di fortuna 1-0 Ma stiamo in vantaggio Dopo 6 minuti Di gioco Gol Di Matteo Ferrari Terzo In Bundesliga Ciccio Caputo Diventa buona per Marcello Junior Attenzione Questo è un po' bruttissimo Questo Occhio al cartellino rosso Via via Fuori fuori ragazzi Fuori 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 Niente scuse Niente scuse Vediamo se mi viene Un po' a giro con Marcello Junior In piedi ragazzi In piedi In piedi E giù del momento del video In cui Tutti noi Ci alziamo in piedi E applaudiamo Un giocatore Straordinario Un giocatore Pazzesco Un giocatore Che ha fatto un gol Straordinario Si è preso il fallo Si è preso il rosso E adesso l'ha messa dentro Mamma mia dove l'ho messa Mamma mia dove l'ho messa Quattordicesimo gol In Bundesliga Per Marcello Junior Solo per questo gol Dovete lasciare un bel mi piace Perché qua abbiamo fatto la storia E' il mio primo gol Fatto così In questo FIFA 19 Attenzione però Perché ci stanno massacrando adesso 2 a 1 2 a 1 Ovviamente Ha segnato Edin Dzeko Gemma è lì Appoggia per Caputo Bello Intocco sotto Mamma mia Se faceva pure questo Era fuori gioco però Era fuori gioco Meglio così dai Che l'ho sbagliata Sistema ancora Quanti buchi in difesa Marcello Junior No Cosa ha preso ragazzi Poteva anche andare Un po' più avanti Tutino Bello 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 Uuuuh Ravesciata Non ci credo Ragazzi ancora Marcello Junior Ma che cosa sta facendo In questa partita ragazzi Infermabile questo giocatore Tutino Gemma è lì Il sinistro male Di Ciccio Caputo E ci sta Ferrari Marcello Junior Ciccio Caputo Fa l'alta per Arnaiz Che la mette dentro di testa Per Marcello Junior Pura di testa Gemma è l'alvolo Che schifo Che schifo Blerin Che schifo 7 tiri a 1 È solo un gol di scarto Io ho paura C'è pure Fernandinho Ancora noi Ciccio Caputo Allarga per Tutino Ti prego Gennaro Ti prego Gennaro Tutino È arrivato Ha rotto pure il joystick È arrivato Il gol Il gol che chiude Ogni cosa 3 a 1 Monaco È partita Portata a casa Volevo fare questo gol Ragazzi Volevo fare questo gol Perché Un solo gol di scarto Fino al novantesimo È pericoloso Averlo Con due gol di scarto Invece possiamo Tranquillamente Gestire questo finale Due minuti di recupero Dentro Calabria Fuori Goleman Di testa Vedete ragazzi Perché È stato fondamentale Chiudere tutto Con il terzo gol Colpo di testa Al novantesimo Di Marcos Senesi E adesso L'arbitro Fischia la fine Credo Arbitro Ok grazie L'avete visto FIFA Già la prima Pronto Il colpo di testa Al novantesimo Era già lì Sarebbe stato Veramente un peccato Perdere questa partita 8 tira a 3 Con un gol Stratosferico Di Marcello Junior E possiamo andare avanti Con il Bayern Monaco Che non vedo Va bene Adesso guardiamo anche La classifica completa Prima di salutarci Raggiungiamo anche La prossima partita Che giocheremo Ovviamente nel prossimo episodio E questa è la classifica Siamo in testa Con 4 punti Di distacco E una partita In meno 36 32 Con 16 partite Giocate Il Bayern Monaco Quota 24 Ma anche lui Una partita in meno Quindi se vinceva 27 E può assolutamente Rincorrere Almeno Un piazzamento Champions League Voglio vedere anche La classifica Dei capocannonieri Perché Marcello In 16 partite Ha fatto 14 gol Giocatore Mostruoso Io spero ragazzi Che questo video Vi sia piaciuto Nel prossimo episodio Che se tutto va bene Uscirà dopo domani Giocheremo contro il Borussia E poi Faremo Quasi Tutto il mese Di gennaio Perché vorrei fare Qualche colpo Di mercato Vediamo Se vendendo qualcuno Riusciamo a prendere Qualcun altro Vi ricordo Che abbiamo Individuato L'erede Di Buffon E quindi Müller In teoria Si può vendere Per 30-40 milioni Così 10 di quelli Li usiamo Per il piccolo Buffon Che è giovane E che cresce Gli altri 30-20 Li usiamo magari Per prendere Qualche giocatore Più forte Guardando un po' Le valutazioni Arnaiz È un po' Scarsino Però Vi ricordo Che ha Solo 17 anni Ha un potenziale Di 94 Quindi non si tocca Il nostro punto debole È l'attaccante Quindi Con quei soldi Cercheremo magari Di prendere Qualcuno Al posto Di Ciccio Caputo Dipende però Tutto Dalla cessione Di Müller Detto questo Io vi saluto Grazie mille Per essere arrivati Fin qui Lasciate un bel mi piace Per supportare al massimo Questa serie Io vi saluto Bella Grazie a tutti Ciao a tutti Grazie a tutti.